buon poveriggio a tutte e tutti ciao antonio ciao davide bene siamo arrivati alla settima puntata di questo tg sharewood come avevamo preannunciato nella puntata precedente oggi faremo uno speciale sulla grandissima manifestazione che si è tenuta a roma sabato scorso bene 100 mila persone sono scese in piazza a roma da tantissime città italiane e ci sono state addirittura 70 75 città che hanno mosso autobus per andare a roma gli autobus come al solito ormai come da tradizione sono stati fermati ai caselli d'ingresso sia di roma nord che di roma est che di roma sud per dei controlli tra l'altro la polizia ha usato anche un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei migranti nonostante questo tutti sono riusciti arrivare in piazza alle ore 14 a piazza della repubblica ed è partito questo corteo davvero davvero meraviglioso e probabilmente un corteo che segna una pagina importante della storia dei movimenti sociali italiani perché porta in piazza innanzitutto una disponibilità a agire immediatamente contro un decreto considerato ingiusto come il decreto salvini contro un decreto patriarcale come quello di pillon ma soprattutto ha portato in piazza quell'antirazzismo politico quell'antirazzismo meticcio che stiamo vedendo ormai da diversi anni affacciarsi sulla scena di di questo paese c'è stato se vediamo i cartelli gli slogan i colori le facce le biografie di questa manifestazione realmente rendono l'idea di un evento davvero di portata di portata storica non lo diciamo con con retoria perché l'abbiamo vissuto l'abbiamo abbiamo contribuito in parte a costruirlo e soprattutto siamo abbiamo visto la voglia di protagonismo che c'è stata in questa giornata e dobbiamo dire che la riuscita dell'evento dal punto di vista numerico dal punto di vista dell'immaginario no ricordiamo lo slogan il concetto chiave la parola chiave di questa manifestazione indivisibili indivisibili rispetto alla volontà di essere uniti di intrecciarsi contro chi invece vuole gerarchicamente dividere soprattutto sulla base di che cosa del colore sulla base del genere sulla base della condizione sociale quindi indivisibili è stato è riuscito comunque no attraverso un concetto semplice a cambiare anche l'immaginario di questo paese e la manifestazione è riuscita ancora di più se la misuriamo con l'oscurantismo mediatico che c'è stato i media mainstream non hanno praticamente parlato se non in minima parte di di questo evento hanno dato risalto invece a quella bruttissima piazza di torino ricordo i 40.000 no di torino che ricordano purtroppo nella storia politica di questo di questo paese altri 40.000 che hanno un po chiuso diciamo una stagione di dirotta importante come quella degli anni 70 quindi 40.000 che sotto il cappello del sitav del sia le grandi opere hanno riunito un po tutti a pd a casa pound a confindustria e non solo ma torniamo invece alla bella piazza di roma del 10 novembre e ricordiamo vogliamo rimarcare anche il fatto che è successo qualcosa di imprevedibile ossia il fatto che ci si è resi conto che c'è una disponibilità disobbedire c'è una disponibilità al conflitto in questo paese una disponibilità che la portano avanti e la rivendicano anche i migranti stessi ricordiamo che dal palco è stato lanciato più volte dal camion della manifestazione è stato lanciato più volte il fatto che se vogliamo disobbedire al decreto salvini non bisogna solamente enunciarlo ma bisogna praticarlo attraverso tanti modi una delle pratiche sicuramente quella di piazza e infatti un appuntamento che è stato lanciato dalla manifestazione è quello di ritrovarsi di autoconvocarsi davanti al parlamento nei giorni della votazione definitiva del decreto salvini ma appunto rimarchiamo il protagonismo migrante che c'è stato come dicevi tu Antonio la manifestazione grande e moltitudinaria non era una manifestazione definita non era la manifestazione soltanto dei migranti non era la manifestazione dei centri sociali ma era una manifestazione composita è una manifestazione che ha l'obiettivo di continuare di andare avanti e di capire come disobbedire al al decreto salvini noi come tg sherwood siamo stati strada abbiamo sentito varie anime del corteo abbiamo anche sentito un ragazzo che è arrivato da un po di anni qui qui in italia che ha un documento ma però purtroppo è fuori da quelli che sono il l'accoglienza ormai l'accoglienza quello che bisogna portare avanti quando questo decreto sarà ahimè attuato e diventerà legge quindi è un'organizzazione organizzazione capillare della e della disobbedienza non è qualcosa di facile bisogna organizzarsi bisogna capire come disobbedire a questo decreto e bisogna capirlo sia da un punto di vista giuridico ma anche da un punto di vista sociale una sicuramente delle delle emergenze che ci troveremo ad affrontare nei nei prossimi giorni ma che già stiamo vedendo in in queste ore è quella per esempio della della problematica abitativa tanti di questi ragazzi appunto uscendo dal dal sistema dell'accoglienza si ritroveranno fondamentalmente in mezzo ad una strada trovarsi in mezzo ad una strada non vuol dire soltanto non avere un tetto dove vivere ma essere fuori dal sistema dell'accoglienza e a non avere per alcuni per tanti un documento e anche non poter accedere alle cure mediche e non poter quindi godere di quelli che sono i diritti fondamentali diritti essenziali bisogna quindi organizzare una cooperazione sociale attiva attraverso una mobilitazione permanente per esempio adesso andiamo incontro verso verso l'inverno quindi banalmente l'emergenza freddo porterà delle problematiche davvero forti per questi ragazzi per queste donne per questi uomini che non possono rimanere al freddo e al gelo abbiamo sentito un ragazzo funè che vive a marghera e che ci racconta il perché un ragazzo giovanissimo come lui ha deciso di partecipare ad una mani ad una manifestazione bella e composita come questa ascoltiamo quindi funè buonasera a tutti siamo qua a roma oggi per il nostro diritto perché siamo qua stiamo lavorando fai scuola come tutti gli italiani tutti quelli che fanno italiano i migranti fanno tutto ma l'unica cosa siamo qua senza documenti da due anni sette mesi che sono qua senza documenti volevo documenti umanitario per tutti stessi che hanno messo il vino una brutta persona a rasismo una brutta persona e abbiamo ascoltato la testimonianza di di funè direttamente dalla piazza di roma e una piazza è uno spazio quello che si è aperto a roma che proseguirà c'è la volontà di proseguirlo e che però si mette in una linea in continuità con un'altra manifestazione che c'è stata sempre nel corso del 2018 era un altro tempo politico se ci pensiamo perché c'era ancora il governo del pd avevamo marco minniti che era ministro degli interni era la manifestazione del 10 febbraio a macerata ricordiamo una manifestazione lanciata dai movimenti sociali subito dopo una settimana dopo la tentata strategia fascista commessa fascista e razzista commessa da luca traini bene quella manifestazione aveva già dimostrato ampiamente in maniera inedita direi quello che era un antifascismo nuovo un antifascismo che si intersezionava con altri temi con quello dell'antirazzismo con quello dell'antisessismo ma un'intersezionalità che non è solamente evocata nasce nelle lotte cresce nelle lotte e quindi si riproduce poi nelle piazze e questa linea di continuità ha dimostrato che comunque esiste un altro paese al di là del colore del governo perché ricordiamo e rimarchiamo che la manifestazione del 10 di novembre è stata la prima grande manifestazione contro il governo della lega e del cinque e dei cinque stelle su un tema quello del razzismo del razzismo istituzionale di due decreti che sono altamente reazionari appunto temi su cui si è contraddistinto sicuramente la prima fase del del governo giallo verde però ricordiamo che le radici di questa deriva reazionale avvengono da lontano sicuramente il ministro minniti ne è un esponente fondamentale quindi sentiamo proprio in una linea immaginaria di continuità tra la manifestazione del 10 febbraio a macerata e quella del 10 novembre a roma simone che è un esponente del centro sociale sisma che ricordiamo è il centro sociale che ha lanciato quella bellissima manifestazione e della quale ancora oggi stiamo raccogliendo i frutti politici. Simone del sisma di macerata oggi siamo qua con lo stesso spirito del 10 febbraio che ci aveva portato in piazza il 10 febbraio dopo l'attentato fascista di Traini e siamo qua perché come allora oggi è la cosa giusta da fare siamo qua perché è inaccettabile quello che questo governo lega cinque stelle sta facendo rispetto ai migranti alle donne rispetto a tutti quanti i territori quindi oggi è una risposta importante e non scontata siamo veramente tantissimi come eravamo tantissimi e tantissime quel 10 febbraio e sappiamo benissimo che un punto di partenza sarà importante andare avanti continuare ad andare avanti sempre più indivisibili e sempre più pronti a respingere gli attacchi che quotidianamente vengono da questo governo. Siamo qua soprattutto per rispondere anche a quella narrazione che vorrebbe larghe fasce della popolazione che appoggiano insomma questo governo oggi stiamo dimostrando che questo non è vero che ci sono moltissime persone che non accettano questa situazione e che vogliono andare avanti nonostante il razzismo rilagante che Salvini, Di Maio e tutto il governo stanno portando avanti. Siamo tornati in studio durante il grande corteo tantissimi sono stati gli interventi dal camion, c'era un microfono aperto quindi davvero tanti sono stati gli interventi da parte di migranti, da parte delle realtà sportive, dei centri sociali, dei vari movimenti. Molto interessante è stato il palco tra virgolette finale, è stato un palco che non ha portato diciamo delle parole standardizzate, delle parole mi viene da dire quasi da comizio ma si sono rappresentate all'interno del momento finale proprio quelle anime che hanno portato in piazza tutta quella marea di gente, si sono raccontate le esperienze che hanno portato a questa grande manifestazione. Sono intervenute le mamme di Lodi che hanno raccontato la loro ahimè triste esperienza nell'asilo nido appunto della cittadina lombarda, c'è stato l'intervento dei centri sociali delle Marche, dei melting pot eccetera eccetera. Uno degli interventi sicuramente più seguiti ma anche forse un po' più diciamo aspettato dalla piazza perché purtroppo è balzato agli onori della cronaca per il suo arresto è stato quello di Mimmo Lucano. Mimmo Lucano che è appena arrivato anche in manifestazione è stato veramente preso d'assalto da parte dei giornalisti ma anche dai vari militanti per portare proprio la solidarietà attiva. Noi abbiamo sentito Mimmo Lucano, abbiamo avuto l'opportunità sia di intervistarlo ma anche di far due chiacchiere con lui e quello che ci ha colpito mentre lo intervistavamo è che in Mimmo Lucano non c'è nessuna arsoratoria, non c'è magari una dizione corretta, non c'è quella intonazione, quella retorica del politico ma utilizza un linguaggio chiaro e un linguaggio che arriva dritto al punto e dritto spesso anche al cuore della gente. Quello che lui ha detto è che lui si sente uno di noi. Questo fatto di essere osannato, di essere quasi la star del momento è un qualcosa che non gli appartiene per il suo modo di essere ma anche per la sua esperienza politica. Ascolteremo adesso le sue parole ma quello che io voglio sottolineare è che più volte lui ha ribadito il concetto che bisogna disubbidire quando si ricevono degli ordini che umiliano quella che è la nostra coscienza, quella che è la nostra umanità e secondo me queste parole sono proprio la chiave di volta di quello che deve essere il percorso che dobbiamo fare è appunto anche il percorso di disobbedienza che dobbiamo mettere in campo contro il decreto Salvini. Ascoltiamo quindi le parole del sindaco di Riace, Mimmo Lucano. La propaganda raziale di odio, di cattiveria che c'è stata in Italia nel corso degli ultimi dieci anni e che ha prodotto il consenso, ma oggi siamo qua intanto anche per essere uno dei tanti, io non mi sento per nulla qualcosa di più, per me il concetto di uguaglianza è fondamentale per costruire delle società di giustizia e di umanità, ma ci può essere giustizia se non c'è uguaglianza sociale, non ci può essere, allora ecco perché io lo vivo con fastidio questo essere considerato qualche cosa di sopra, proprio non voglio per nulla pensare a questo, io semplicemente sono il sindaco di un piccolo comune che si è trovato a gestire una situazione non cercata, alcune volte metaforicamente dico il vento è stato che ha accompagnato quel veliero e poi ovviamente io non sono rimasto insensibile e da lì è iniziata un'accoglienza che ha cambiato Riace e Riace ha dimostrato che è possibile e lo stanno chiudendo, ma è troppo tardi, perché già ha dimostrato che è possibile, se è possibile Riace è possibile ovunque, Riace fa paura non solo perché dimostra che è possibile, ma perché trasmette anche un messaggio politico, un messaggio politico che è legato ad una, ad un'idea ancora più profonda, al sogno proletario, con tutti loro abbiamo costruito. Allargate, allargate! Ok, grazie. E da Riace a Berlino, da un attacco a un progetto solidale partito dal basso, a un altro attacco, questo di livello europeo alla solidarietà organizzata delle ONG. Nel corteo sono stati presenti con due interventi anche gli attivisti della Juventa, ricordiamo la nave che è stata bloccata non solamente dalle politiche europee che in maniera sempre più mirata stanno criminalizzando il lavoro di solidarietà compiuto dall'ONG, ma anche dal tribunale di Trapani che addirittura ha accusato, ha messo in stato d'accusa questi attivisti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e altri reati molto pesanti. Io credo che l'intervento degli attivisti della Juventa, che ricordiamo alcune settimane fa sono stati protagonisti insieme a tantissime altre realtà in Germania e nello specifico a Berlino, di una manifestazione che aveva lo stesso nome, indivisibili, che ha portato in piazza 250.000 persone unite in un concetto semplice, quello di rifiutare qualsiasi forma di razzismo vecchio e nuovo. Il contributo di questi attivisti alla manifestazione a mio avviso è stato fondamentale perché ci ricorda un aspetto, sia il fatto che nel momento in cui si lotta, si fanno scadenze, si fanno percorsi, progetti, processi sulla questione non solamente dell'antirazzismo, ma sulla questione di voler costruire forme di vita alternative al razzismo, alla forme di discriminazione. Ebbene la dimensione internazionale, la dimensione globale è fondamentale perché il problema che stiamo vivendo, quello di una deriva reazionale, di una svolta reazionaria, di un corso addirittura storico reazionario, lo vediamo dagli Stati Uniti al Brasile, dall'Ungheria all'Italia, è appunto una cosa globale. Per queste ragioni la risposta non può che essere globale. Sentiamo quello che ci dice Katrin, attivista della Juventa. che si tratta di risposta, che si tratta di risposta, che si tratta di risposta di risposta, per risposta di risposta e per non accettare che le persone si tratta di risposta senza un traccio nel corso del Mediterraneo. Quindi, stiamo parlando con voi, contro il il regime di bordo e stiamo combattendo la criminalizzazione della solidarietà. Siamo felici di essere qui e confessiamo che siamo culpi della solidarietà, quindi siete benvenuti essere nostri partenari nel crimine. Lei è Katrin, la capo della missione della Juventa, la nave che è riuscita a salvare più di 14.000 persone nel Mar Mediterraneo. Sono venuti qui oggi a Roma per protestare, così come lo hanno fatto in Berlino poche settimane fa, la manifestazione di visibili Untelbar, che ha visto più di 250.000 persone attraversare le strade della capitale tedesca. Sono qui e rischiano, accusati dal governo italiano, fino a 20 anni di reclusione per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Ma questi sono gli affermati, continueranno a protestare e sono qui oggi per protestare sia contro il governo mortale dei confini europei, ma anche contro la criminalizzazione della solidarietà. Grazie a tutti per essere qui oggi e noi siamo colpevoli di solidarietà, quindi siate con noi, partners nel nostro crimine. Siamo ritornati in studio. Proprio nelle ore precedenti, anche nei giorni precedenti alla grande manifestazione di Roma, nelle varie esperienze di occupazioni abitative, ma anche di campi informali dove vivono migranti, la mannaia di Salvini, la ruspa anzi di Salvini, già aleggiava in questi posti. Infatti sia il 4 Stelle che il Baobab erano sotto sgombero. Martedì, purtroppo, è arrivato lo sgombero di Baobab, mentre il 4 Stelle è sotto sgombero da giorni, hanno tagliato l'acqua e la luce e si trovano in una situazione di grave difficoltà nonostante stanno continuando a resistere. Come dicevo in precedenza, Baobab martedì è stato sgomberato. È stato un campo che più volte è stato sotto attacco, che più volte è stato sgomberato, che più volte si è spostato lungo la capitale. Un campo mobile dove appunto all'interno vivevano anche delle persone con un regolare permesso, con dei documenti delle persone che possono stare nel territorio italiano. Il Comune di Roma, nei giorni precedenti, aveva auspicato una soluzione di concerto con gli attivisti per ricollocare queste persone. Ritornerò su questo termine perché davvero è agghiacciante utilizzare questi termini. Questo non è stato fatto. Martedì sono arrivati con la forza e hanno spostato, hanno preso le persone che abitavano nel campo e sono state soltanto 67 inserite in alcune strutture, mentre gli altri adesso non hanno un tetto perché loro vivevano in una tenda, ma non hanno un posto dove vivono. Si parla di centinaia di persone addirittura. Quello quindi che bisogna trovare è una soluzione che sia una soluzione stabile. Non si può continuare a vivere nell'emergenza e non si può anche continuare a vivere nell'assistenzialità, perché queste persone non vogliono più vivere nell'assistenzialità. Ricordiamoci appunto che sono persone. Prima dicevo il fatto di dire ricollocare già è un termine veramente brutto e agghiacciante. Sono delle persone che hanno delle storie, sono delle persone che nelle varie marce anche qui in Veneto abbiamo visto si spostano con una valigia e davvero sono immagini brutte da vedere. Quindi ci auguriamo che vengano trovate delle soluzioni sia per le persone che abitavano a Baobab ma anche per tutte quelle altre realtà che sono sotto sgombero. Andiamo a sentire Andrea Costa che proprio ci dà le notizie dal campo appena sgomberato. E' il ventiduesimo sgombero da quando c'è Baobab e da quando è cominciata la cosiddetta emergenza migranti. No, non chiude il Baobab, chiudono questo campo come ne hanno chiusi altri, portano per l'ennesima volta oltre 100 migranti a identificare, già identificati, ulteriori mortificazioni, umiliazioni, sono tutte persone già segnalate, segnalate al Dipartimento Sociale, segnalate alla questura per stranieri, quindi non capiamo il senso. E abbiamo sentito la testimonianza di un attivista di Baobab, ricordiamo che a fine novembre quando verrà votato definitivamente il decreto è stata lanciata anche da Baobab da diverse realtà dei movimenti per l'abitare, ma non solo, una piazza sotto Montecitorio. E' importante che questo momento diventi un momento di continuazione della piazza del 10 e ricordiamo anche il fatto che Salvini ormai ci dà pubblicità ai movimenti nella sua campagna social, però ha ribadito che lo sgombero di Baobab, dove come dicevi tu Davide ci sono oltre 100 persone che non hanno in questo momento un posto dove stare, beh per il Ministro dell'Interno significa ribadire, ristabilire la legalità. Noi intanto ci salutiamo, ci vediamo giovedì prossimo e buon pomeriggio. Ciao! Ciao.